Siamo in un'epoca oscura, un'epoca di caos e violenza. Il mondo è devastato dalla guerra, dalla violenza e dalle epidemie. Tuttavia, in mezzo a tutto questo bordello, la razza umana era sopravvissuta. Il mondo è un'epoca, un'epoca di un'epoca, un'epoca di un'epoca, un'epoca di un'epoca. Danza! You are sure! I dei coda,速くなる! You are sure! Orano coda,速くなる! Ommeno tol, saa, maio, un'epoca di un'epoca, un'epoca di un'epoca, un'epoca di un'epoca. Ommeno tol, saa, maio, un'epoca di un'epoca di un'epoca. Ommeno tol, saa, maio! Il mondo è un'epoca di un'epoca.